Buona domenica a tutti. Prima di iniziare la nostra solita analisi su Midcap, star e growth, una parola doverosa va spesa per l'attacco iraniano nei confronti di Israele che peraltro sembrerebbe essere stato neutralizzato oltre il 99%, solo pochi attacchi sono andati a segno e devo dire che c'è stata una risposta piuttosto concreta anche da parte di una coalizione di Stati Uniti, Gran Bretagna, Giordania e Arabia Saudita. Però io non ho purtroppo o per fortuna per certi versi perché non sono argomenti che mi entusiasmano la competenza per dirvi anche solo ipotizzando quello che potrà succedere. Di certo ci trovavamo già in un contesto di debolezza, almeno di breve periodo per i principali indici azionari mondiali rispetto al fortissimo rally del primo trimestre e questo è un evento sicuramente non da sottovalutare. Questa mattina, prima di venire in ufficio la domenica, cerco di riposarmi un po' di più, stavo riflettendo sul video che avevo fatto sul 2024, anno bisesto, anno funesto. E in effetti una delle ipotesi che almeno valuto io, poi molti non saranno d'accordo, è che il mercato in realtà per poter scendere stava cercando un pretesto. Ecco, non vorrei che questo fosse un pretesto, non perché non sia grave la situazione, però anche la guerra russo-ucraina lo era, ma il mercato ha sofferto, tutto sommato, pochissimo, qualche settimana, barra qualche mese, ma poi c'è stato questo rally incredibile a cui tutti abbiamo assistito. Anche Israele Hamas, alla fine a livello di ripercussione sui mercati, non possiamo dire che ne abbia avuta tanta. Quindi diciamo che quel video che ho fatto era semplicemente ricordare che statisticamente, a partire, non andiamo alle calende greche, ma dal 2008 in avanti, ogni anno bisestile ha avuto dei momenti piuttosto negativi e se vogliamo anche unici come la crisi dei multisual prime nel 2008, con il fallimento Lehman e tutto quello che ne ha seguito. Nel 2012 la crisi del debito sovrano italiano, nel 2016 c'è stato un mercato che ha perso comunque tra il 15 e il 20%, nel 2020 abbiamo avuto il Covid, adesso un attacco diretto dell'Iran a Israele, diciamo che quantomeno il livello di prudenza va ulteriormente alzato. Io, come vi ho già detto nel video di ieri, ho raddoppiato la mia posizione short sul Futsimib, adesso rappresenta il 10% del mio capitale, ho voluto ottenere comunque un 30% liquido e domani vedrò come gestire le posizioni in essere, soprattutto spero che non venga eroso troppo guadagno da quelle dove ho delle performance molto positive come Fincantieri, Eni, Tenaris, probabilmente mi scatterà qualche stop, di certo non comprerò, nonostante ho visto qualche occasione interessante per un'operatività multi-day, come faccio normalmente di lunedì, perché uso il weekend per farmi una short list di titoli che giudico interessanti da comprare e tenere multi-day in portafoglio, domani per ovvi motivi preferisco aspettare e cercare di capire l'evolversi della situazione, magari anche per diversi giorni, intendo dire per almeno tutta la settimana, poi comunque ci terremo aggiornati con i vari video sia di preapertura che quello post chiusura a mercato diurno. Cercherò però di fare molto intraday, perché comunque lo faccio da ormai più di 20 anni, l'ho fatto in momenti anche molto drammatici, nel 2008 c'erano delle aperture per le banche in gap down anche di 5, 7, 9 punti percentuali, Brexit, le banche hanno aperto anche a meno 15, meno 20 direttamente, i primi giorni, le prime settimane di Covid sono state molto molto volatili, per cui ho i titoli che mi danno maggiori garanzie, sui quali mi concentrerò, non vi do delle indicazioni precise perché non vorrei che venissero intese come sollecitazione all'investimento, però le caratteristiche ve le definisco, titoli che abbiano una storia già datata a livello di quotazione, non neocuotate, ma titoli che abbiano 5, 10, 15 anni di storia, che il mercato abbia sempre particolarmente difeso, o comunque ricomprato nei momenti di forte debolezza, e soprattutto che abbiano dei fondamentali cristallini, e mi riferisco alla posizione finanziaria netta, positiva, e a moltipli sugli utili decisamente ragionevoli, e non come alcuni che vediamo da qualche settimana a questa parte, che vengono continuamente ricomprati. Domattina avremo magari qualche idea in più delle preaperture, non so immaginare come reagirà il mercato, perché se lo sapessi ovviamente non sarei qui con voi, però sicuramente anche se può apparire come un discorso cinico, cigni neri, perché potrebbe essere anche considerato un cigno nero questo, e non ce lo saremmo mai augurati, anche se era nell'aria, possono fornire occasioni, a mio avviso, soprattutto di trading. Questo se il fenomeno durerà un tempo ragionevolmente breve. Se dovesse prolungarsi nel tempo, che le tensioni geopolitiche dovessero aumentare ulteriormente, per diverse settimane barra mesi, e questa volta condizionare in maniera significativa anche l'andamento del mercato azionario, a quel punto si creeranno probabilmente delle nuove occasioni, anche per ingressi di medio-lungo periodo. In ogni caso, adesso torniamo al nostro tema della domenica, che è quello di guardare Mid Cap Star e Growth, e partiamo, come nostro solito, dal Russell 2000. Russell 2000, che come vi ho già detto, è in difficoltà in questo momento, perché comunque il fatto che non ci sia al momento una chiara intenzione da parte della Federal Reserve di iniziare a tagliare i tassi, penalizza molto l'indice delle Mid Cap americane, tant'è che sembra voler proseguire nella sua fase di correzione, con un primo obiettivo a 1986, livello dove transita, diciamo 1987, arrotondiamo, la media mobile a 100, poi c'è questo minimo del 13 di febbraio 1950, quindi 1921, minimo del 5 di febbraio. Poco sotto c'è la media mobile a 200, che è 1910. vediamo all'indice Mid Cap, anche qui credo che ci sia la volontà di proseguire nella fase di correzione, primo obiettivo 46,747, minimo del 14 di marzo, poi media mobile a 50, 46,462, quindi 46,224, 45,986, i prossimi obiettivi. star, in questo caso abbiamo già la perdita della media mobile a 50, 46,927, poco sotto c'è la media mobile a 100, a 46,426, e poi abbiamo questo 46,343, 46,230, quindi il minimo del 7 di marzo, che è 45,8 e 45. Adesso dedichiamoci ai titoli che hanno fatto meglio e quelli che hanno fatto peggio a livello di Mid Cap, star e growth. Prima devo scusarmi, non in realtà con tutti voi, ma in particolar modo con Giovanni, perché su queste dinamiche è particolarmente attento, in quanto colpevolmente non ho parlato nelle ultime due sedute di Fidia, perché su Fidia capita raramente, però la storia sta cambiando, tant'è che sono andato a prendermi il comunicato stampa del 10 di aprile e devo dire che non è sicuramente ancora un bilancio, quello da 2023, da fare i salti di gioia, però c'è un tentativo da parte della società di comunque tracciare una via di risanamento e poi approfondiremo anche in maniera più dettagliata la situazione, però partiamo dai ricavi, 28,6 milioni da 24,4 e mi dà sì negativo per 200 mila Euro, ma rispetto al meno 2,6 milioni del 2022, risultato netto, meno 1,47 milioni da meno 4,9, molto buona, molto buona l'acquisizione ordini da 26,2 milioni da 6,2, il portafoglio ordini comunque al 31 dicembre 2023 era a 14,3 milioni da 4,3, l'unico dato che è peggiorato è quello relativo all'indebitamento, salito a 9,6 milioni da 7,4. Mi sono piaciute le parole del dottor Luigi Maniglio, presidente esecutivo di Fidia, il 2023 è stato un anno fondamentale per il nostro gruppo che ha visto da una parte l'insediamento di un nuovo management team e dall'altra il completamento dei principali tassali della procedura concordata in via di chiusura nel primo semestre del 2024. Commenti ai dati, poi in realtà la parte più interessante è perché è stato presentato un nuovo piano industriale e che il nuovo piano industriale permette al gruppo di guardare finalmente un orizzonte promettente e in bonus con alle spalle la complessa procedura concordataria. Al termine dell'arco del piano nel 2027 è previsto un target dei ricavi consolidati pari a 43 milioni con un EBITDA doppio digit che vuol dire praticamente almeno del 10%, quindi vuol dire che Fidia farà ipoteticamente almeno più di 4 milioni se non più di 5 milioni di EBITDA e sarà un EBITDA positivo. Quindi oltretutto credo che poi magari Giovanni se la seguita di più può confermarlo dovrebbero essere finiti anche i finanziamenti con Negma perché in dato il 29 febbraio sono state messe sottoscritte la parte del servizio della quinta tranche e la sesta tranche di obbligazioni per complessivi nominali 1,5 milioni di euro del prestito obbligazionale convertibile riservato in sottoscrizione a Negma Group Investment e deliberato dall'assemblea straordinaria dei azionisti del 18 novembre 2022. Quindi situazione sicuramente diversa rispetto a quella che ha fatto crollare il titolo perché io non sono assolutamente pentito di avervi detto che era un titolo da lasciare stare e i fatti poi mi hanno dato ragione perché è passato sostanzialmente da area 1,30 a 0,26 e mezzo minimo del 6 di marzo. Adesso invece questo apre una prospettiva nuova perché è vero ha fatto già venerdì più 13,30 e giovedì più 14,80 però nel medio periodo è un titolo che potrebbe tornare probabilmente poco sopra area 0,50 e poi direi 0,70 0,71 magari visti i venti di guerra aspetterei a buttarmi a capofitto nel titolo però si può sicuramente tornare a guardare e può diventare sicuramente interessante per il medio e lungo periodo perché probabilmente avverrà un pieno risanamento della società. Con Afi voglio vedere se sono addirittura storici questi mettiamo addirittura un mensile quasi storici perché no forse storici addirittura comunque sì praticamente è un rimbalzo dai minimi storici quindi particolare attenzione 0,18 e 15 0,18 e 20 titolo che proverà a fare base in quest'area probabilmente tentare magari un rimbalzo però io al momento ne starei fuori ha fatto questa performance abbastanza buona nella seduta di venerdì però massima prudenza quindi eviterei al momento con Afi al di là del fatto che possa rimbalzare mi ha stupito questo rimbalzo invece di Clabo perché il titolo aveva perso la media mobile a 50 e anche quella a 100 quella a 50 2,38 e mezzo quella a 100 2,32 e 6 e sembrava avviata Clabo a 2,27 2,19 mentre la seduta di venerdì mette sicuramente nuovamente in discussione questa mia ipotesi e probabilmente Clabo si muoverà in trading range tra 2,31 e 2,64 per le prossime sedute la forza dell'oro che continua a essere comprato come effettivamente a questo punto anche il suo scopo di bene a rifugio con queste tensioni geopolitiche sempre crescenti fa sì che l'unico titolo che abbia un collegamento diretto all'oro perché Confinvest fa intermediazione di oro fisico e fa anche il deposito dell'oro fisico ha fatto un nuovo massimo di periodo a 1,86 ha chiuso a 1,77 e c'è spazio per un'ulteriore salita direi fino a 1,91 eventualmente 1,99 non dimentichiamo che a livello di fondamentali la società comunque non ha pubblicato da diversi esercizi dei numeri esaltanti proseguiamo con ABP nocivelli perché siamo in trading range piuttosto definito tra 4,10 e 4,46 e credo che il titolo possa rimanere in questo trading range proseguiamo con Danieli Danieli veramente molto bella addirittura nuovo massimo storico intraday a 34,95 e comunque la più alta chiusura di sempre 34,85 per cui titolo per chi lo ha tenuto assolutamente a continuare a mantenere stesso discorso per Danieli risparmio che in intraday fa nuovo massimo storico a 25,25 in questo caso abbiamo in realtà una chiusura che non è la più alta di sempre però è praticamente 24,70 la chiusura di venerdì 24,80 il massimo assoluto molto bene molto bene General Finance molto molto bene anche qui abbiamo un nuovo massimo storico a 11,30 chiusura a 10,85 aveva leggermente ritracciato l'intraday fino a 10,20 ma poi il titolo è stato assolutamente compratissimo ferro ferro vieno or milano sto cercando attentamente perché i volumi di tanti titoli che hanno fatto anche i movimenti interessanti non sono tali da poterne parlare pubblicamente perché scambiano talmente poco che poi diventa veramente troppo occuparsene visti i volumi appunto modesti bene ferrovia enormilano che chiude sulla media mobile a 50 0,44 media mobile a 100 0,442 poi 0,445 0,449 0,454 e massimo di periodo di 0,464 sempre forte Mayer Teckimon che ha avuto solo quel momento di incertezza con l'apertura in gap down giovedì adesso direi che il massimo di venerdì è stato 7,63 e mezzo quindi c'è il micro gap da chiudere a 7,66 titolo da trading range compreso tra 7,11 e i massimi di periodo di 7,90 e mezzo vediamo anche il pra il pra ha un po' questo problema dell'otto minimo abbastanza impegnativo perché sono 600 pezzi quindi quasi 3.000 euro è in un trading range compreso tra 4,76 e 4,98 mi sembra che voglia provare a rimbalzare con un primo obiettivo a 5,05 5,15 grande protagonista di giornata Neo Experience che però conferma quanto ci siamo già detti in tante occasioni ovvero che fa fatica a confermare le rotture perché addirittura venerdì ha fatto un massimo a 2,24 ma poi ha chiuso a 2,09 io sono ancora moderatamente positivo perché dico moderatamente perché io sto facendo questa analisi penso che questo sia chiaro ma intendo ribadirlo come se quanto accaduto tra Iran e Israele non impatti in maniera clamorosa il mercato ma se vi dico che c'è ancora la possibilità di tornare per noi a 2,27 2,37 ovviamente un minimo di collaborazione da parte del mercato in generale non deve lunedì mattina fare il mercato meno 3 perché ovviamente questo verrebbe sicuramente meno però sono ancora possibilista su un ulteriore allungo da parte di Neo Experience rimbalzino ma proprio rimbalzino da parte di Juventus titolo che è un po' in caduta libera nelle ultime sedute fa fondamentalmente Candela Inside perché il minimo di giovedì è stato 1,82,2 il minimo di venerdì 1,84 vediamo se in quest'area prova a fare base prendiamo un attimo il mensile altrimenti la possibilità di discesa può arrivare direi la primaria importante è poco sopra 1,75 direi 1,76 45 poi ci sarebbe un po' il baratro perché si va addirittura a 1,553 minimo di luglio 2016 da Mico da Mico siamo in trading range compreso tra 5,93 e i massimi pluriennali del 26 di marzo 6,92 gira sostanzialmente in un euro di range Elen continua sempre a essere in area di massimi di periodo anche qui abbiamo un trade range compreso tra 11,14 e 12,05 a scopiave abbiamo visto come ci sia stata una ripresa da parte delle utilities sta provando a fare base in area 2,30 il titolo può rimbalzare fino a 2,45 2,44 massimo del 20 di marzo Italian wine brand Bellarmor devo dire la verità dopo aver fatto un minimo intraday a 17,85 chiude addirittura 18,70 recuperando sia la media mobile a 100 18,03 che quella a 50 18,07 la chiusura è sulla media mobile a 200 perché transita 18,69 può aprirsi la possibilità di un turning range compreso tra 17,85 e 19,50 saccheria fratelli franceschetti a questo però c'è il bug mi chiedo mi chiedo scusa perché non mi sono ricordato di farlo correggere da fulvio per cui magari in settimana ci tornerò mondadori mondadori rimbalzo giovedì dalla media mobile a 50 2,15 2 tentativo di superamento della media mobile a 200 tentativo di superamento di quella 50 venerdì 2,22 e 1 ma chiusura a 2,20 e mezzo direi che però a questo punto potrebbe concretizzarsi un turning range tra 2,15 e 2,30 Sesa Sesa secondo me si trova in un turning range ma sta tentando di accumulare per cui obiettivo 103.8 105.9 quindi media mobile a 200 107.9 banca profilo qui siamo in turning range sui massimi di periodo compreso tra 0,21 7 0,22 4 però ritengo che ci sia il rischio di tornare almeno a 0,21 2 e poi sulla media mobile a 50 ovvero 0,21 continua il momento abbastanza positivo di digital bros digital bros sembra voler andare a ritestare la media mobile a 50 8,805 massimo del 10 di aprile è 8,88 poi il massimo del 14 di marzo 9,165 fincantieri ancora forte perché comunque anche se ha fatto candela inside continua a stare in area di massimi di periodo il turning range è 0,752 0,806 ovviamente io essendo in posizione da un prezzo inferiore a 0,50 probabilmente se lunedì dovesse già chiudere sotto 0,752 applicherò uno stop profit cyberoo cyberoo anche in questo caso ci troviamo in un trading range compreso tra 3,18 e 3,62 cembre cembre in questo caso abbiamo 42,25 44,8 che peraltro è massimo storico per il titolo poi poi facciamo ancora we build we build perché ci troviamo in un trading range compreso potremmo dire tra 2,16 e 2,33 6 ma mi sembra ci sia maggiore volontà per andare a chiudere il gap a 2,38 e 4 concludiamo i migliori con Muti Online qui vedo un rischio ribasso 34,45 media mobile a 50 34,02 poi 33,40 quindi 32,95 concludiamo con Sol Sol è in trading range sui massimi storici per il momento comanda la candela di giovedì 34,50 35,80 titolo ancora da mantenere però in caso di rottura di 34,50 potrebbe tornare a 33,3 poi 32,4 32,15 vediamo adesso ai peggiori cominciamo con Eglobe perché fa una pessima Marubozu Black 1,29 1,18 e sembra voglia tornare a 1,11 e poi 1,08 male anche ISCC Fintech sono titoli di scambio molto poco però vi voglio far vedere perché comunque vedete per esempio ISCC Fintech è a rischio rottura dei minimi storici che sono stati il 18 di marzo a 2,56 quindi è un titolo dal quale io al momento starai distante comincia a essere davvero preoccupante il ribasso di energy perché è vero che ha pubblicato un bilancio deludente ma da 1,98 massimo 26 di marzo siamo arrivati a 1,23 e mezzo nella seduta di venerdì prossimi obiettivi direi 1,18 e mezzo 1,17 e mezzo quindi 1,12 e mezzo minimo del 10 di novembre non mi è piaciuto nemmeno il comportamento di redfish perché anche qui abbiamo una marbozzo black e sembra abbia voglia ancora di proseguire a scendere 1,32 1,28 e mezzo eventualmente 1,25 e mezzo sempre in una bucca senza fondo TMP Group che tutti i giorni sta facendo da ormai diverse sedute nuovo minimo storico venerdì c'è stato l'ultimo aggiornato 1,25 altro titolo da lasciar stare Client B&B sembra aver finito la fase rialzista ed è probabile un ritorno a 1,21 e mezzo poi media mobile a 100 ovvero 1,17 e mezzo quindi minimo del 12 di marzo che è 1,16 seppur con volumi modesti ben venduta anche Destination Italia e anche in questo caso direi che si può parlare di un rischio di ritorno a 0,842 0,832 poi 0,82 Saffilo nonostante il rinnovo pluriennale della licenza con Marc Jacobs sembrava come vi avevo già detto un po' segnato il destino del titolo venerdì fa una Marbozzo ha fatto una Marbozzo Black 1,184 con 1,114 l'impressione che possa continuare a scendere fino a 1,10 1,075 1,066 Eviso dopo una serie interminabile di nuovi massimi storici in sequenza fa la prima seduta di correzione fa un Engulf in Berisch io avessi avuto il titolo sono sincero venerdì avrei chiuso a 4,30 in asta finale adesso un consolidamento fino a 4,15 3,95 3,87 potrebbe anche esserci ESPE vi avevo già detto come fosse diventata rischiosa ha chiuso a 3,15 ma l'obiettivo può essere addirittura la chiusura gap lasciato aperto a 2,76 SABAF SABAF in realtà pur essendo quasi una Marobozzo Black è Candela Inside però magari per le prossime sedute un 17,50 19,05 trading range entro il quale muoversi potrebbe essere l'ipotesi più plausibile situazione di nuovo un po' difficoltosa per Dovelu che peraltro viene da un rimbalzo piuttosto significativo dei minimi storici da 1,79 l'impressione che però possa proseguire questa fase di correzione con un primo obiettivo 1,95 e 6 poi 1,91 1,89 e 4 siccome le guardiamo sempre assieme vediamo anche i limiti i limiti continuano avere il supporto di breve poco sopra 4,50 4,51 2 4,51 e 6 e per adesso vale il trading range con massimo 4,78 8 al limite 4,85 dopo la pubblicazione dei dati è stata nuovamente venduta gas plus pessima candela con un range veramente molto ampio 2,55 2,35 chiusura poi a 2,37 la media mobile a 50 transita a 2,408 primo obiettivo 2,33 poi 2,32 poi i minimi di periodo del 5 di marzo 2,305 digitaccio ne sono rimasto vittima anch'io in intraday di solito perdo con maggiori difficoltà rispetto al multiday però perché lo sento più nelle mie corde l'ho sempre detto però ho comprato non in massimo perché sapete che non compro un breakout autocomprato il ritracciamento però il titolo ha fatto veramente un movimento molto brutto massimo a 2,13 dove tra l'altro ne sono passate se ricordo bene 10.000 ma chiusura addirittura a 1,92 con volumi anche in crescita e il rischio e il rischio qui è che possa proseguire una fase di correzione e andare fino a 1,82 che è il minimo della prima settimana di maggio 2022 poi c'è 1,71 minimo dell'ultima di aprile del 2022 algowatt algowatt continua il trade range al momento che è sempre un rischio di distribuzione sul titolo 0,21 4 0,28 25 è molto ampio però è questa la situazione OVS OVS direi che ha fornito un altro segnale piuttosto negativo perché ha perso nettamente la media mobile a 50 226 a 2 178 c'è la media mobile a 100 poi a 2 15 c'è questo supporto abbastanza importante che è il minimo del 20 di febbraio poi c'è la media mobile a 200 che è 2,143 se dovesse perdere anche la media mobile a 200 allora il rischio di accelerazione a ribasso si farebbe ancora più concreto perché avremo sicuramente un 2,10 e poi probabilmente un 2,024 minimo del 19 di gennaio MF facciamole tutte e due cominciamo dalla che fa una brutta Marubozu Black se dovesse perdere anche 2,45 probabile obiettivo 2,39 e poi 2,342 la B invece tiene leggermente meglio io come sapete ce l'ho in carico da 2,90 sto mantenendo il primo alert è sotto 3,31,8 per un obiettivo a 3,25,2 poi 3,23 quindi l'incrocio delle medie mobili quella a 100 3,17,6 quella a 200 3,16 anche se non ha scambiato tantissimo guardiamo Alchemy perché sembra oggettivamente arrivata dovrebbe perdere la media mobili a 50 11,67 primo obiettivo 11,50 poi 11,26 11,12 IWS altro titolo molto ben comprato ma potrebbe essere un po' arrivato adesso questa in Gulfing Berish ha un range veramente molto ampio da 7,30 è andato a fare un minimo a 6,82 poi è chiuso a 6,92 primo obiettivo direi 6,68 poi 6,50 Antares ecco Antares finalmente ho deciso ho visto questo settimanale e ho visto un grafico settimanale e direi che il livello più importante per il breve 2,44 perché poi si va direttamente a 2,26 B.S. B.S. venerdì ha dato un segnale poco incoraggiante ha perso la media mobile a 50 12,05 media mobile a 111,94 media mobile 211,69 è il primo obiettivo poi abbiamo 11,62 minimo 22 di marzo quindi abbiamo 11,27 11,15 italian design brand è peccato perché dopo la candela di giovedì con nuovo massimo di periodo 10,82 chiusura 10,60 pensavo potesse avere ancora spazio a rialzo adesso invece rischia che in caso di perdita di 10,20 si ritorni a 9,85 livello dove transita anche la media mobile a 200 ho chiuso in perdita New Lat ho voluto tenere duro però purtroppo come vi avevo già detto se non avesse tenuto almeno 5,76 io avrei chiuso e adesso i prossimi target sono 5,55 5,5 e 40 digital value è brutto segnale per digital value prossimi obiettivi direi 49 poi 46,5 minimo del 9 di novembre venduta anche Tessellis che peraltro rimane in 3D range compreso tra 0,48 e 3 e 0,56 e 7 Sogefi poi facciamo come al solito anche CIR Sogefi in questo caso siamo in 3D range compreso tra 3,055 e 3,32 CIR addirittura ha fatto un nuovo massimo di periodo a 0,56 e mezzo chiudendo a 0,55 di conseguenza per CIR c'è spazio fino a 0,597 0,605 quindi un'impostazione decisamente molto buona GVS GVS sembra aver finito il rimbalzo di breve primo obiettivo 5,90 poi media mobile a 100 che è 5,86 minimo del 28 di marzo 5,50 Zucker è ancora in trading range non dà ancora direzionalità quindi al momento i livelli da monitorare sono ma alla fine è come quasi se comandasse la candela del 12 di marzo comunque 12,77 e mezzo 2,77 e mezzo sicuro scusate poi 3,35 massimo del 28 di marzo fila che ha provato a rompere il rialzo c'è anche riuscita nella seduta del 9 di aprile ha fatto un massimo nel dia 8,50 però la chiusura ha negato sia la rottura della media mobile a 50 8,32 e 2 che la media mobile a 100 8,26 e 1 e direi che adesso deve assolutamente tenere 8,16 il minimo di venerdì per evitare un ritorno a 8,02 7,82 però io credo che l'obiettivo di questo movimento possa ancora essere 8,75 Trevi adesso la situazione tecnica si sta indebolendo 0,32,8 0,32,15 poi media mobile a 100 ovvero 0,31,9 Karel anche Karel sembra aver finito il rimbalzo primo obiettivo 19,08 poi 18,82 che è il minimo del 7 di marzo BFF Bank correzione ma qui parliamo di un titolo che comunque è in area di massimi storici sicuramente adesso può iniziare una fase di consolidamento con primo obiettivo 12,09 poi 11,82 quindi 11,62 minimo del 19 di marzo Piovan Piovan è in trading range compreso tra 11,80 e 12,80 il pericolo in questo caso la perdita proprio di 11,80 con primo obiettivo 11,35 poi 11,15 tecnoprobe io ho comprato nella scorsa settimana settimana appena conclusa delle tecnoprobe però ho uno stop strettissimo vedete minimo del 20 di marzo 8,01 media mobile a 200 8,04 quindi sotto 8,01 chiuderò il titolo per il momento è trading range compreso tra 8,01 e 8,61 situazione sempre complicata per Landy Renzo perché Landy Renzo comunque sembra abbia voglia di rompere ulteriormente a ribasso e come target c'è 0,27 8 minimo di dicembre 2016 poi proseguiamo con WIT altro titolo che secondo me vuole accelerare a ribasso con un primo obiettivo direi a 15,88 e poi a 15,56 15,52 15,30 Tinexta perde nella seduta di venerdì la media mobile a 217,68 primo obiettivo 17,07 poi si va addirittura a 16,35 lo spike dell'8 di marzo scorso olidata olidata sta andando a cercarsi i supporti per cui media mobile a 100 0,59 e mezzo poi 0,59 0,58 e mezzo pericolosa la perdita di 0,58 e mezzo perché abbiamo la media mobile a 200 0,54 7 chiusura gap massimo 22 gennaio 0,52 e mezzo orsero orsero ancora situazione complicata con un primo obiettivo a 13,44 e poi direi 12,64 12,48 l'ottomatica 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 media mobile a 100 10,49 tenuta per rotto la cuffia venerdì credo che possa tornare a 10,35 poi 10,206 e non non posso escludere addirittura un target a 9,76 livello dove transita anche la media mobile a 200 esprinet 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 titolo aggrappato alla media mobile a 205,1 però mi dà l'idea che possa scendere per un primo obiettivo a 4,92 e poi il minimo di breve periodo 4,68 e 4 minimo del 13 di marzo poi voglio concludere con due titoli non tanto per variazione ma per quadro tecnico davvero delicato ovvero Ariston perché è vero che ha fatto solo ha fatto una variazione tendente a zero ma è su minimi storici anzi in intraday li ha ritoccati venerdì a 4,828 i precedenti erano stati il primo di novembre a 4,89 quindi situazione veramente molto molto pericolosa per Ariston e anche se non si tratta di minimi storici voglio farvi vedere anche Faragamo perché anche Faragamo è in una situazione tecnica molto delicata continuano a sprecarsi i tagli di target ed è arrivata Faragamo su praticamente livelli che non vedeva da marzo 2020 rimane veramente poco ormai dal punto di vista tecnico perché c'è un 9,22 settembre 2011 e poi c'è il minimo storico di 8,10 di ottobre 2011 qui va un po' fatto un discorso più ampio perché ormai Faragamo capitalizza solo un miliardo e 6 è vero che ha dei multipli molto alti su questo avete ragione ma sono multipli che ha la tanto decantata Brunello Cucinelli per cui se continuasse a scendere potrebbe essere sicuramente interessata da parte di un'acquisizione da uno dei colossi del lusso che capitalizzando decisamente molto molto di più avrebbero tutta la convenienza di provare ad acquistarla tramite un OPS offerta pubblica di scambio quindi carta contro carta dando anche magari un premio e poi cercando di riportare la società a marginalità più lusinghere con questo ho concluso prima di salutarvi però vi voglio invitare la massima prudenza per lunedì io ho fatto un'analisi ripeto senza farmi condizionare dagli eventi geopolitici che invece sono conscio che potrebbero in realtà condizionare anche molto l'apertura dei mercati europei domattina però intanto faremo farò un video di preapertura come al solito per cui vedremo assieme già i futures di DAX di Eurostox come viaggiano e anche seppure ancora presto quegli americani però mi raccomando mantenere i nervi saldi piuttosto per chi ha meno esperienza l'ideale in questi casi è stare fermo e perdonate quando mi avventuro in dialetti che non conosco io come sapete conosco veramente bene sono dietro Ligure però mi piace questa espressione questa espressione è un mercato quanto meno da ha già passato notato ecco questo per capirci ci vediamo domattina prima dell'apertura del mercato di urlo grazie a tutti Grazie a tutti.